bambini e ragazzi di ogni età ecco spiego però bambini e ragazzi per me include bambini bambine ragazzi ragazzi perché il linguaggio sembra che bambini ragazzi sono solo i maschi tutti quelli che hanno pochi anni quindi bambini ragazzi ragazze bambine vogliono cosa vogliono vogliono vivere respirare camminare giocare amare se vanno al mare vogliono fare il bagno sono in un prato vogliono giocare se sono vicino un albero da frutta vogliono mangiare la frutta se sono in un bosco vogliono camminare di notte vogliono guardare le stelle e gli adulti cosa vogliono gli adulti pensano di fare i figli ma adulto tu sei stato figlio sei stato bambino sei stato ragazzo ma perché non ti ricordi se andiamo a vedere la differenza tra un bambino un ragazzo un adulto è lavorare lavorare ma perché lavorare deve escludere giocare vivere sorridere amare perché il luogo di lavoro diventa un luogo da cui voler andare via prima possibile o rimanere lì aspettando l'ora per andare via i luoghi di lavoro scuole fabbrici uffici ospedali perché ci sono anche quelli che lavorano in ospedale perché non riflettono i desideri dei bambini e dei ragazzi cresciuti vivere giocare respirare amare camminare nel bosco mi va al mare montagna quindi c'è un momento di spaccatura in cui il bambino dopo di essere diventato ragazzo diventa uomo donna diventa adulto e non deve più ridere non deve più sorridere deve vestirsi in un certo modo deve essere serio lavorare io ho scritto libri ho collaborato con delle case editrici a delle collane di libri per far uscire anche libri di altri autori quindi quello è stato il mio modo per guadagnare un po di soldi perché ho lavorato solo per guadagnare il minimo non ho mai avuto una casa intestata a me non ho avuto automobili intestate a me non ho la patente però mi è sempre piaciuto vivere respirare camminare amare stare a guardare le stelle stare a guardare le nuvole stare a guardare gli uccelli che volano gli animali guardare osservare contemplare quindi che cosa vogliono alla fine è una parola i bambini e ragazzi vogliono amare ed essere amati amare ed essere amati gli adulti dicono amare ma poi però c'è lavorare allora cosa fai vai a chiedere a chi lavora se ama il suo lavoro i luoghi di lavoro i luoghi di lavoro non sono fatti per amare ed essere amati non sono fatti per amare ed essere amati sono fatti per lavorare ma lavorare vuol dire vivere vivere allora impariamo dai bambini dalle bambine dai ragazzi e le ragazze che per vivere bene bisogna lavorare ma lavorare deve essere un momento di vita un atto di vita quindi i luoghi di lavoro andrebbero dipinti affrescati addobbati curati arredati per permettere a chi va là a lavorare lavorare per guadagnare guadagnare per spendere i soldi per vivere è tutto un giro però già quando uno va a lavorare vive vive perché i treni per i pendolari devono essere quelli più scomodi perché nelle metropolitane negli autos sono le ore di punta tutti accattastati perché non c'è lo scaglionamento come mai lavoriamo secondo gli accordi non c'è lavorare cinque giorni alla settimana poi è chiaro che chi lavora di notte non lavora di giorno chi lavora di giorno non lavora di notte chi lavora sabato alla domenica poi si riposerà altri giorni insomma questa società basata sul lavoro perché non trasforma il lavoro in un momento di vita quindi tu che lavori organizzati 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 per vivere il lavoro non lavorare per vivere vivere il lavoro come un momento di vita come un momento reale momento in cui io sono tu sei noi siamo noi siamo ho visto delle persone tristi sul luogo di lavoro delle persone più scocciate più annoiate più nervose insoddisfatti di vivere sul luogo di lavoro quindi i luoghi di lavoro andrebbero ridisegnati trasformati in momenti di vita potrei dire anche di gioia i momenti dove uno sta bene sta bene quando c'erano gli schiavi il padrone degli schiavi era chiamato il padrone degli schiavi oggi quello che guadagna sul lavoro degli altri si chiama imprenditore alla fine se andiamo a vedere non è che sto facendo un discorso comunista tutti devono prendere questo stipendio no però quello che oggi è chiamato l'imprenditore per quanto paga bene chi lavora per lui o per lei guadagna di più allora perché non reinvestire nel luogo di lavoro rendere il luogo di lavoro più umano più artistico più naturale più accogliente ci vuole ci vuole coraggio ci vuole coraggio ci vuole coraggio il coraggio te lo puoi dare solo tu non c'è nessuno che ti può dare coraggio ti può dare l'esempio del coraggio ma il coraggio sei tu tu sei il coraggio coraggio vuol dire prendere una decisione avere una visione e creare un'atmosfera io sono entrato perché ho viaggiato moltissimo in Italia tutta l'Italia tutta l'Europa l'America l'Asia e l'Africa sono entrato in vari bar per forza viaggiando sono entrato in vari ristoranti per forza viaggiando in vari alberghi e ho notato due tipi di persone che lavorano quelli amichevoli che anche se lavorano vogliono un rapporto umano e quelli fisicamente presenti ma umanamente assenti ma non penso che quelli umanamente assenti quando ho finito di lavorare tornano a essere umanamente presenti sono assenti perché il passaggio dall'infanzia alla giovinezza alla maturità essere adulti è stato fatto in modo traumatico traumatico al bambino dico vai a giocare al ragazzo vai a divertire all'adulto vai a lavorare il lavoro dovrebbe essere un'espressione dell'arte di vivere l'arte di vivere perché il lavoro è vita l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro andiamo a vedere i posti di lavoro come vengono tenuti quindi se sei un imprenditore investi nella bellezza nell'arte nel decoro nell'arredamento rendi bello umano vivibile il posto di lavoro se non sei tu l'imprenditore organizzati organizzati per ho visto delle scrivanie ho visto tante scrivanie su certe scrivanie c'era una specie di vasetto con una piccola piantina su altre ho visto delle foto colorate mi ricordo andare a trovare un giornalista Paolo Granzotto che era figlio del direttore della RAI primo direttore della RAI negli anni 60 che dietro alla scrivania aveva una foto dell'oceano con un'isoletta quelle isolette della Polinesia dell'oceania Polinesia insomma tra Tahiti e le Hawaii quelle isolette lì un'isoletta tutti gli alberi una spiaggia bianca e lui diceva vedi io ho detto tengo qua perché io lì vorrei vivere ma non è vero come non è vero tu se vai su quell'isola lì dopo un po' ti annoi perché? perché noi siamo esseri umani il motivo per cui noi rinasciamo è perché cerchiamo compagnia il motivo per cui la gente va al bar va al ristorante perché cerca compagnia poi non riesce a parlare con il vicino oppure andando sempre allo stesso ristorante andando sempre allo stesso bar uno alla fine scambia le parole l'amicizia ciao Gianni ciao Maria ciao Gianna ciao Mario quindi cerchiamo compagnia sono una categoria sociale gli adulti abbandonata a se stessa dove l'individuo deve accettare passivamente le regole le regole e che cosa fa l'individuo? se è stato figlio crea una famiglia ma se non ha capito cosa vuole essere figlio come fa a diventare padre o diventare nonno quindi c'è qualcosa che non funziona noi vogliamo vivere da bambini vogliamo vivere da ragazzi vogliamo vivere da adulti vogliamo vivere quindi la parola chiave le due parole chiave è vogliamo vivere mi auguro che questo messaggio migliori in qualcuno l'idea del lavoro l'idea del lavoro ho visto che durante il coronavirus che è andato avanti un po' troppo a lungo secondo me perché mi ha detto ma tu non parli del coronavirus? sì sto parlando adesso è andato avanti troppo a lungo c'era la DAD didattica a distanza questa che cos'è? comunicazione CAD comunicazione a distanza quando ci vediamo creiamo insieme un campo di buona energia lavori crea un campo di buona energia perché le riviste non voglio offendere perché le riviste peggiori le trovi nelle sale di attesa e tutti li si mettono a guardare perché non trovi degli articoli interessanti dei libri interessanti delle pubblicazioni interessanti perché se uno va dal medico deve fare la fila non trova delle riviste che spiegano cos'è la buona salute se uno va dal medico c'è la sala d'attesa un tavolo buttato lì delle riviste di sei mesi prima cosa ha fatto quella al mare magari lo leggi d'inverno che villa c'è quello là quel famoso attore viaggia col jet personale ma perché non ci sono delle riviste simpatiche divertenti comprensibili che spiegano come funzionano i reni come funziona il fegato come funziona la melza come funzionano i polmoni qual è l'alimentazione giusta buttate liste riviste quindi tutto è un fatto culturale allora da bambino ti dicono vai a scuola vabbè da ragazzo vai a scuola ma quando poi si dice ah devi fare l'ingresso nella vita ma perché non c'è la cultura dello stare insieme della compagnia io ho detto cosa che vogliono i bambini i ragazzi di ogni età vogliono vivere vogliono amare quindi buona vita buon amore e con gioia e con amore il viaggio continua